Una tappa importante che segna un traguardo per la vita e per la professione. Si è tenuta a Bari al Circolo della Vela l'ormai consueto appuntamento 50 anni di professione che l'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Bari dedica ai decani della categoria per celebrare i professionisti iscritti all'albo da almeno 50 anni. 20 professionisti insigniti del riconoscimento, modelli di riferimento per tutti gli iscritti in un momento storico di grandi cambiamenti che si sono raccontati alla platea di colleghi senza nascondere anche le difficoltà di una professione sempre più coinvolta nel destino di un territorio tra cambiamenti climatici e novità normative. È sicuramente un'occasione importante per parlare dell'architettura attraverso l'opera di questi nostri colleghi che sicuramente saranno per tutti noi un grande esempio di vita professionale e di vita da uomini di questo mondo.